Benvenuti a questo nuovo video. Oggi siamo su Minecraft. Ok basta. Siamo su una mappa ctm Cioè completare le lane e tutto. Voglio fare un po' veloce perché voglio fare sì. Praticamente qua sì c'è scritto tutto non crafteremo niente. Non mi ricordo più come si chiama questa mappa. Oddio. Vabbè. Iniziamo. Oddio. C'è tante varie isole. C'è la mappa di tutte le isole. Questa è gigante. Mi sa che la più gigante. No aspetta forse questo. Eh no la più questa. Ok c'è. No aspetta. Ah. Starterkit. Tutte queste. Ah questo è qui. Fare il copy. Sto incinerato. Che lo faremo? Qui. Aspetta. Ah non mi ricordo anche come si fa. Allora. Se non mi ricordo. Ho fatto un tatto che. Così. Ah quando forse un altro poso. me la lavo. Mamma mia che genio. Che genio. Che fottutamente genio. questo è. Questo è eh. Questo è un po'. Ok. Prendiamo un po' di cobblix. Anzi la prendiamo tutto. Qui. Facciamo così. Ehm. Prendiamo un po' di alberi. Bah 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 bah. Duro con il legno. Mmm. Che basta. Tagliamo il legno. Ok. Da. Dopo aver preso un po' di legno. Si. Ho un alberino. Non ho preso tutto questo. Non ho finito questo. Si. qua. Qua. dovrebbe. Iniziale. A darci più alberini. Tipo. Mettiamo subito. Qua c'è la piesta. Qua c'è il monumento. Ragazzi. c'è le clay e le lane, quindi anche le argille. Qua ho... per tentato prendiamo un po' di faccio prima. Non ce lo sapete. Questa è tanta erba e argillaline. Già una lana, sul serio? Sul serio? Perché ha infinità u, cioè io se la piazzo... No! Vabbè non c'è più. Argilla, dico... Oh mamma mia! Eccola qua, blu! Non c'è una lana, cioè non è una clay, vabbè, qualcosa. E poi c'era... ah, un libro. Si va bene, grazie. Mamma mia, sono un genio. Questo libro si può tirare tutto. Ok, intanto lo sapevo che c'era qualcosa. Poi facciamo... vabbè, prendiamo così, facciamo. Quindi mettiamo anche questa cassa. Così la leviamo dai coglioni. e lo mettiamo insieme a questo. Start, vabbè, lasciamo così. Qui lasciamo... ah, ho preso ancora... no, 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 no. Il legno lo lasciamo qua. Ora prendiamo anche un po' di petrisco e ci vediamo dopo. Dopo aver preso 20... 20 blocchi di cobblestone, non c'è fame. C'è altro problema. Ed è un po' di petrisco. Oh qua ce ne... cos'è? C'è un po' di petrisco? E questo? Da... damaged... E dove avrei preso... ah, ho voluto... ah, ho voluto altre... Dove avevo preso un po' di copi e non chiediamo tutto E qua mi dica freddo Puglia fuoco Bello così Andiamo verso un'isola Questa qui è quella più vicina Quindi Senza perdere Dopo esserci andato Vediamo un cazzo Oh figo la nave La fare No La palla l'ho lasciata da Intanto torciamo un po' Una torciata a casa mia Allora facciamo due torce qui No nel ponte Guarda una torcia qua Poi c'è qualche torcia qua Ah no hai cose Vabbè però c'è Vabbè forse Qui all'acqua E non c'è il letto Quindi Ho fame 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 Ecco Ancora più Benissimo Qua c'è qualcosa No Ragazzi Subito una cesta Carbone Argilla Indurita Blu Ah Oh C'è Fortuna Oh Si C'è un po' Un piccone con fortuna Vai 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 Scamo un po' di carbone Poi ci vediamo Raggiunto Il Lo stack preciso di carbone Andiamo a mettere la Margilla Gua Dio C'è C'è Ah Blu Basta Questa è Blu Eccola Non ci arrivo Ci ho fatta Due Babbè io di colane Ma Anche se argilla Ora facciamo una cosa Molto tattica Guardate Molto tattica Ma io mi butto Ah I livelli Vabbè Non cazzi Eh No I livelli Oh Si Se c'è le schede Si si fanno il culo Poi Allora Una dritta Oh Dai Chi non me la metti Ah Ora ci siamo Sicuro ci siamo Ora ci siamo Vediamo soprattutto uno spawner Di coso non c'è un po di maia uomo già io non mi sono fatto una spada non so che io non ho poglioni ecco perfetto io mi sono ancora fatto una spada spada ah non è ancora qui trovo questo un effetto quello vicino eh lo sapevo me la ora ce l'ho il cibo ce l'ho la viola abbiamo già trovato due l'anna fallente poi abbiamo una farm infinita di maiali quindi cose tu mi hai fatto spawnare non so stavo per cadere muori oh dai ok prima di perdere tutto mettiamo tutto qua l'argilla viola non lo so viola purple ecco qui spero che questo video vi sia piaciuto se il video vi è piaciuto mettete like commento qua sotto pagine in descrizione e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao ciao